Dalle 12 di oggi, al suono della sirena di avviso, circa 11.000 ettari di terreno agricolo nell'areale del Trebbia possono cominciare a dissetarsi con oltre 1.600 litri di acqua al secondo rilasciati dalla diga del Brugneto. Dal momento in cui è stato iniziato il rilascio, l'acqua impiegherà circa 48 ore ad arrivare a Rivergaro, quindi sarà disponibile nei canali erigui a partire dal pomeriggio di mercoledì prossimo. Un rilascio che rientra negli accordi con la regione Liguria, che prevedono un quantitativo totale di acqua rilasciata di 2 milioni e mezzo di metri cubi, nella speranza che gli incontri che si terranno a breve con la regione Emilia-Romagna portino a un aumento a 4 milioni come negli anni scorsi. Questo dato è importantissimo per il consorzio perché ci permetterà, per il proseguo dell'erogazione, di pianificare meglio l'erogazione in funzione delle effettive esigenze. L'esigenza di Piacenza è di aver pianificato un rilascio organico di 6 milioni di metri cubi di acqua per il periodo estivo.